E poi fuochi pirotecnici, quindi rimanete con noi, non andate a casa e se andate a casa vi aspettiamo qui entro le 21. E poi fuochi pirotecnici, quindi rimanete con noi. E poi fuochi pirotecnici, quindi rimanete con noi, non andate a casa e se andate a casa e se andate a casa, non andate a casa e se andate a casa. E poi fuochi pirotecnici, quindi rimanete con noi, non andate a casa e se andate a casa. E poi fuochi pirotecnici, quindi rimanete con noi, non andate a casa e se andate a casa. Un applauso ai nostri piloti per incoraggiarli, dai! Un applauso ai nostri piloti per incoraggiarli, dai! Alice! Allora sta per entrare in pista Max! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.